Legge 150 del 2000 e sua attuazione, ma è di prossima approvazione, quantomeno si auspica una legge regionale da parte della regione Campania relativamente all'editoria. Presidente dell'ordine dei giornalisti, Luca Lelli. La legge regionale l'ha già approvata a settembre, quindi il suo lavoro l'ha svolta, poi questa legge è pubblicata al sito della regione. Adesso è in consiglio regionale, in commissione, martedì ci sono le audizioni, noi come ordine dei giornalisti della Campania siamo assolutamente favoribili. Finalmente arriva una legge regionale che aspettavamo a 17 anni, una legge che vengesse più praticabile, a livello campano, quella che è la legge 150 del 2000. Che cosa prevede questa legge? I bandi per i comuni, o per i consorsi di comuni perché c'è anche una possibilità tra comuni e i consorziati. E poi una serie di finanziamenti per questi bandi. Quindi c'è la possibilità concreta per chi vuole attuare la legge di ufficio San Papo 12 di farla. Che cosa è successo in questi anni? In questi anni è successo che i comuni più grandi hanno potuto fare, i comuni più piccoli. Questa c'è la possibilità. Noi ci auguriamo che dopo le audizioni il consiglio approvi tutto il trofineato, in modo che poi il regolamento e l'attuazione bandi nel corso del 2018 sia tutto praticato.